Raga è un mare di TNT, è un mare di TNT, what the fuck, è una giungla di common block, possiamo vedere attraverso i blocchi Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video, mi dispiace se ho questa voce, il mal di gola pian piano sta passando Quindi veramente vi chiedo scusa ancora per la mia voce Detto questo, oggi vi mostrerò qualcosa di veramente senza senso su Minecraft E adesso voi state dicendo, ma Eme, sei nella tua vanilla, cosa c'è che ci devi mostrare che è senza senso? Beh, tralasciando tutta la mia vanilla che è senza senso, un ragazzo che sa fare texture su Minecraft di nome Edo Vi metterò caso a me se riesco qualche suo link qua sotto in descrizione Ha creato una texture pack, no sense, ovvero che non ha senso di esistere E adesso andremo a vedere subito perché, io non me la sono spoilerata Ne andremo a scoprire insieme, naturalmente utilizzeremo la vanilla come mondo di test Quindi premiamo esc, opzioni, resource pack, qua c'è Ok, andiamo a vedere questa texture pack che mette una not default Raga, ho paura Clicchiamo su done E vediamo un pochettino che succede Ho veramente tanta paura ragazzi E veramente ragazzi non vedo l'ora che questo mal di gola mi passi Comunque, eh, aiuto Già vedo qualcosa di... Aiuto? Perché sono... Sono calderoni Cosa cacchio Raga What the fuck Raga Ma che cavolo Cioè non sono a cambiare di blocchi Ma soltanto le texture Questo qui, raga, se lo vado a rompere È oaclog Quanto è grande? Cioè, ok No raga Il minecart È di smeraldo No, scendiamo qua sotto Eh dai, qua sotto È più o meno tutto normale Ho preso del ferro per craftare subito un minecart Cioè Ok, normale È un minecart normalissimo Abbiamo bisogno intimo di una rotaia Ok E vediamo subito fuori Com'è? Oddio Lo slime block è diventato del granito Ma che... Ok Calma, calma No vabbè Raga È spettacolare Bellissimo Vediamo qua Se c'è qualcos'altro di particolare No Oddio i glitch Oddio raga i glitch Possiamo vedere attraverso i blocchi No vabbè Usciamo un attimo fuori Cosa? Ma che cosa? Ma è scomparsa l'acqua Ah, non c'è ancora Ma raga Non ha senso Perché i hopper? Ah Sono l'erba C'è raga I hopper sono l'erba Guarda che si vanno a fare tra di loro Ma che cavolo? No raga C'è la TNT No raga C'è la TNT WTF Libreria Legno Raga Questo qui È la grassa Ma È dirt ora What? Non ha senso Oddio Guarda qui dentro È più LOL È ossidia No raga Dobbiamo vedere subito Una cosa Dobbiamo subito vedere una cosa Dobbiamo subito Vedere una cosa No vabbè Ma le foglie Sono mezze torte Sono spicchi di torte Perché? Perché? È questa zucca? È una zucca normale Ok sorry Che ci fa qua? No raga Vabbè Oddio guardate Possibile il nostro Perché c'è la No Raga perché cacchio c'è La bedro No Guarda il portale Un portale Fatto con le chest Ma che cavolo Ok Qua il nostro mondo Non sembra assolutamente Cambiato Mangiamo un attimo Va mangiamo Mangiamo Vediamo qui No qua è tutto normale Raga È tutto ok Andiamo a vedere il nostro acquario Ho tanta paura No raga Che cosa? Cosa? Porte Repeater C'è della bedrock C'è della bedrock Non ha senso Ma che No voglio notarci Voglio notarci dentro Ragazzi Guardate What the fuck È sabbia È sabbia questa Mi ha cambiato la sabbia Con la bedrock Guardate le porte Che Sarebbero le foglie No vabbè Raga Non lo so C'è tutti quanti un mi piace E vi metterò in descrizione Il download di questa texture pack La mettete tipo A qualche vostro amico E gli fate qualche scherzo No raga Mamma mia Guardate Ma che cacchio No Non ho i razzetti Sono senza razzetti No Guarda Guarda i cart Che girano No Tutto fatto con le chest Vabbè What the fuck No Non ha senso Non ha fucking senso Non ha nessun senso Questa cosa Ok ragazzi Ho preso dei razzetti Dello CD All'onflint e steel Eh No raga Ma che Oh mio dio No vabbè È troppo creepy Raga No ma c'è della tnt Ossia vabbè Raga è un mare di tnt È un mare di tnt What the fuck È un cavolo di mare di tnt Ma che cavolo è sto blocco Ma sono carote So carote Io non ho parole Non ho parole Raga continuiamo L'esplorazione di questo mondo Command block What What the fuck Perché dei command block Ma sono foglie Ma sono foglie queste Non sono porte Sono foglie Guardate È legno di giungla No Io Io bo Io bo Ragazzi Ma Non ho parole Raga fa stranissimo Sembra che il mondo Si sia corrotto Ma che cacchio È Guardate I command block Questo qui è ossidiana Quelli cos'è È lava La lava bianca Ok No Non so che dire ragazzi Non so veramente che dire Oh mio dio Che cacchio sono sti blocchi Che sono Sono tipo carote Non sto capendo No raga È troppo bis Lava Ma che cacchio è successo Raga Ma che cavolo è successo Ma che cavolo è successo Guardate No vabbè Vabbè Non ho parole È una giungla di command block Raga ma quanto fa strano Che l'acqua è invisibile No Ma io voglio fare adesso una prova ragazzi Voglio fare una prova Oddio Ecco Sono un genio Mi mancano Tre blocchi Quattro blocchi Bene Bravo Emerald Vedete qua Che mi tocca fare Dove fare un portale Con le ceste Raga Fa stranissimo Fa troppo strano Oh mio dio No guardate l'orologio Vabbè Non ho ancora parole Almeno qua è leggermente normale La scritta Intendo Ma il resto È Corset Minecraft Proprio Guardate Ma che cacchio è Oh mio dio So ragazzi Che non ho detto nulla Di intelligenti In questo video Ma ho detto soltanto Oh mio dio Raga Oh mio dio Oh mio dio Lo so Ma penso che Sia La vostra stessa reazione Se vedresti Il vostro mondo Di minecraft In questo modo Eh già Fa Tanto strano Sembra corrotto Dai Almeno la pagoda È integra Cioè È normale Oh mio dio Guardate Che macello No Ma gli alberi Con le anvil Ma che cacchio No raga Fa troppo strano Fa troppo strano Beh raga Che dire Direi che Abbiamo visto abbastanza A sufficienza Direi Sì Anche perché Stiamo finendo i razzetti E se andiamo troppo lontano Non posso più tornare a casa Quindi nel frattempo Opzioni Resource Pack E la cambiamo Sperando di non schiattare Se schiattiamo Rip Ripperoni No dai Veloce Ok Ok Ah raga E torna tutta la normalità Che bello il nostro mondo Lo sto riapprezzando Veramente Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se si fate un commento Un mi piace Mi dispiace ancora Per la voce In questo stato Spero che nei prossimi giorni Andrà a migliorare E detto questo Come detto Come dico sempre Prima che mi schianto Io vi saluto Ciao Ciao